Alle 15 dovrebbe essere letto dal giudice per l'udienza preliminare di pescare il dispositivo della sentenza a carico degli imputati processati con il rito abbreviato per quella rapina all'agroalimentare di Cepagatti collegata attraverso un'arma, la pistola, all'omicidio della strada Parco. Ma ne sa di più, certamente ci dirà anche quali sono state le richieste dell'accusa e le posizioni della difesa nell'udienza che ha preceduto questa Camera di Consiglio in diretta dal Tribunale di Pescara, il nostro Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio Carmine, sì dunque alle 15 è attesa la sentenza per questo processo che come dicevi giustamente tu ha un valore estremamente importante per il suo legame con l'omicidio dell'architetto pescarese Walter Albi. La rapina avvenne l'11 luglio del 2022. Quattro imputati, volto coperto, rapinarono una guardia giurata rubandogli l'incasso di circa 30.000 euro ma ancora di più rubandogli anche la pistola che sarebbe stata la pistola dell'omicidio di Albi. Gli imputati sono Cosimo Nobile, Maurizio Longo, Renato Mancini e Fabio Iervese. Per Renato Mancini e Fabio Iervese è deciso praticamente il patteggiamento perché i due collaborarono con gli inquirenti e quindi hanno patteggiato due anni e quattro mesi. Per quanto riguarda invece Cosimo Nobile e Maurizio Longo, questi due lo ricordiamo imputati anche nel processo per l'omicidio Albi che inizierà in corte d'assise il 29 marzo a Chieti. Ebbene, la richiesta del PM per Nobile e Longo è di 7 anni e 3 mesi. Considerando il rito abbreviato, una richiesta definita dai loro legali alta ma ha influito e lo sentiremo tra poco dalle parole del legale di Maurizio Longo Giancarlo De Marco ha influito il legame proprio con il terribile fatto di cronaca del 1 agosto del 2022 sulla strada Parco. Alle 15 dunque la sentenza ma intanto, come dicevo, andiamo ad ascoltare l'Avvocato Giancarlo De Marco che abbiamo intervistato subito dopo l'udienza. Avvocato De Marco, la richiesta del PM è 7 anni e 3 mesi, si andrà a sentenza intorno alle 15, una prima valutazione? Oddio, la richiesta diciamo forse un po' alta però diciamo ci può stare. In considerazione si tratta di una rapina poi soprattutto perché il PM ha fatto un po' riferimento all'omicidio e quindi per lui questa richiesta forse era giusta però io ritengo che sia un po' alta perché tutto sommato è una rapina non particolarmente grave. Certo tutte le rapine sono, come si diceva prima in aula, non ci sono rapine belle o rapine brutte però diciamo è una rapina come tante altre per cui se noi consigliamo il rito abbreviato ci chiede 7 anni e 3 mesi significa che la pena dalla quale si parte è superiore ai 10 anni quindi che l'abbrevato prevede una riduzione secca di un terzo quindi il pubblico mistero se avesse fatto una valutazione diversa magari 9 anni per la rapina che è già una richiesta alta, riducendo un terzo sarebbe andata a 6 anni. Quindi ha influito il legame con la vicenda dell'omicidio Albi? Penso proprio di sì perché in effetti il riferimento è stato fatto e quindi su questo è stata fatta una richiesta molto alta. Queste le dichiarazioni dell'avvocato De Marco, Luca direi un po' il suo assistito, Longo insieme a Cosimo Nobile sono l'anello di conciunzione tra queste due vicende di cronaca naturalmente la più grave è l'omicidio Albi. Su quella storia di quest'arma si saprà molto quando si aprirà il processo davanti a tutti in corte d'assise mi pare. Sì assolutamente sì, questa mattina il PM Luca Sciarretta ha puntualizzato molto su questo aspetto, sul coinvolgimento non solo di Nobile e Longo nell'omicidio di Albi ma anche dell'utilizzo dell'arma sottratta alla guardia giurata. Questo legame tutto da provare ci ha spiegato sempre l'avvocato Giancarlo De Marco ma di questo se ne parlerà ovviamente diffusamente in corte d'assise a Chieti il 29 marzo. Il gruppo Fabrizio Cingolani si è intanto ritirato in Camera di Consiglio. Alle 15 sapremo la sua decisione.